Ciao da Svideo, oggi vi parlo del nuovo disco dei Baustel, L'amore e la violenza. Allora, questo disco è molto bello, adesso vi faccio vedere magari anche l'interno. Ci sono fotografie un po' particolari, un po' 70 io direi, come stile. Vediamo un po', ecco qua, vedete. Il disco, vi dicevo, è un po' di giorni che lo ascolto, lo trovo molto molto bello. Certo, alcuni magari, pensando ai dischi vecchi, magari erano un po' più sperimentali, quindi magari l'il gusto, sapete, varia... degustibus, degustibus, il fatto che possa piacere più o meno un disco o un altro. In generale mi sono sempre piaciuti i Baustel e forse sì, come musicalità rispetto al precedente Fantasma e ad altri, magari come... c'è meno sperimentazione, una musica di tipo più orecchiabile, ritornelli molto orecchiabili, una musica pop molto... che ricorda un po' il passato, che ci ricorda anche lì nella musicalità anni 70. ci sono anche diversi riferimenti, per esempio, dei grandi, come Franco Battiato, per esempio, Franco Battiato, cioè nel Vangelo di Giovanni, dove dice, per esempio, io non ho più voglia di ascoltare questa musica leggera già nei testi, ma anche come viene cantato, no? ricorda un po' Franco Battiato, ma anche dove c'è Rachele che canta, Rachele che canta all'interno della traccia Eurofestival, dove canta in gravi stati di allucinazione, cioè nel ritornello canta questa... gravi stati di allucinazione, mentre passa l'ultima canzone dell'Eurofestival, provate a badarci se non vi sembra un po' bandiera bianca di Franco Battiato in quel momento, ci sono degli echi di Franco Battiato, vabbè, si ispirano dei grandissimi, giustamente, e poi, per esempio, c'è il sample di Sandokan dentro a basse batteria, quindi ci sono cose un po' particolari, però un gusto musicalmente, sì, con rimandi al passato, anche come tipo di strumentazione, a me piace tantissimo, i testi di Francesco Bianconi sono qualcosa di particolare, che ti fa riflettere allo stesso modo, a volte ci sono alcuni versi di cui sono... che devi chiudere te un po', che devi interpretare te, oppure delle mezze frasi dette lì, oppure... non so come spiegare, cioè, ragazzi, è profondo e allo stesso tempo anche essere semplici e profondi allo stesso tempo, quindi alla fine non sono mai banali i dischi dei Baustel. Magari, vi ripeto, come musicalità vi potrebbe sembrare qualcosa un pochino di già sentito, no? Perché... ma è perché vogliono ripercorrere e far rivivere certe atmosfere o, appunto, ispirandosi a certi grandi del passato, ritorna la musica sinfonica, non solo come titolo di una canzone, ma già come intro all'interno di questo brano, ma anche c'è il titolo di una traccia che si chiama proprio Musica Sinfonica, dove c'è questo pezzo che inizia, che sembra... tipo... vi ricordate Rondò Veneziano, quel gruppo anni Ottanta che suonavano con gli archi, eccetera? Intanto vi dico le tracce contenute nel disco, nell'album, che sono... Love, Il Vangelo di Giovanni, Amanda Lear, che è il singolo che va per radio, simpaticissimo, Betty, poi c'è Eurofestival, poi c'è Bassa e Batteria, La Musica Sinfonica, L'Epidoptera, La Vita, Continental Stomp, L'Era dell'Aquario e Ragazzina. Quindi sono 12 tracce e devo dire che proprio... sono veramente interessanti. Per il momento la mia preferita è La Vita. Lo so, adesso se ve lo leggo, sembra una cosa semplice e banale, ma è tutt'altro che banale. A volte per dire le cose più profonde non serve, non serve dire cose estremamente complesse. Qua nei vari ritornelli, per esempio, dice Lo so, la vita è tragica, la vita è stupida, però è bellissima. Essendo inutile, pensa a un'immagine, a un soprammobile, pensare che la vita è una sciocchezza, aiuta a vivere. E' bellissimo, questa qua è un sentimento che infonde speranza e che ti... Questa cosa, a me è piaciuta tantissimo di questa canzone, sembra quasi un gesto, un confidarsi a qualcuno, dire, beh, non te la prendere se sta andando in quel modo adesso, in quel momento, non ti abbattere, non sconfortarti, non pensarci, non stare a pensarci giù, a pensarci su, e vivi, vivi e continua a vivere. Ma sia il mood che trasmette musicalmente, sia i testi indovinati, mi regalano un'emozione, mi regalano un'emozione davvero forte, davvero forte. Voglio dirvi che il nuovo disco di Bastelle è in circolo, se vi capita di sentire un po' le canzoni che contiene, adesso a Mandalire, magari l'avrete già sentita, potete dirmi cosa ne pensate, trovo un singolo simpatico per aprire, per far pubblicità all'album, diciamo, sicuramente, sono diverse canzoni che trovo belle, molto belle, complimenti, Bastelle, complimenti, grandi! Ciao a this video!